Ci sono ancora dei margini di miglioramento, notevoli margini di miglioramento, io penso con il sacrificio di tutti, con l'aiuto di tutti, possiamo fare qualcosa di più e di meglio. A poche settimane dal suo insediamento a procuratore della Repubblica di Catanzaro avvenuto a metà maggio, si dice fiducioso Nicola Gratteri sul lavoro e sul futuro della stessa procura catanzerese. Nonostante il grido d'allarme lanciato soltanto pochi giorni fa dal presidente del Tribunale Domenico Ielasi che ha denunciato che in procura si lavora ai limiti della resistenza umana a causa della carenza cronica di personale e mezzi, il magistrato si mostra ottimista su un intervento celere da parte del Ministero della Giustizia per colmare tale gap ed anche per quanto riguarda la vicenda dell'ex ospedale militare. A fronte dell'immobilismo finora mostrato delle istituzioni sul destino di tale struttura, per velocizzare l'iter pare essere stato fondamentale proprio l'arrivo dello stesso Gratteri, il quale ha fatto capire immediatamente di voler inserire una marcia differente e di sbloccare una situazione stagnante. Io sono fiducioso e ottimista su questo e io penso che a breve avremo delle risposte positive da parte del Ministro della Giustizia con riferimento anche all'aumento organico dei magistrati. Quindi non solo si è mosso tutto ciò che stava attorno all'ospedale militare, dove sono anche lì fiducioso che faremo un bel palazzo della giustizia, ma anche per quanto riguarda l'organico dei magistrati, non solo della procura ma anche e soprattutto del tribunale, ci saranno sicuramente risposte positive da parte del Ministro. È stato fondamentale il suo arrivo per mettere un po' d'accordo le forze politiche delle cittadine? Non lo so, io non ho pensato a questo, io sono abituato a dire quello che penso, se non lo posso dire sto zitto. E quindi quel giorno mi andava nel corso del saluto di dire quello perché era quello che sentivo. Poi gli effetti, i risultati, aspetta poi giudicarli.